ah ragazzi oggi prima uscita con la rinnovata mt 09 sp siccome nel video di presentazione qualcuno ha detto che non si vedeva bene cosa avevo combinato ma l'avevo fatto di proposito perché come vi dicevo ci sarebbe stato modo di mostrarvela sicuramente meglio eccola qui con la luce del sole e con tutta la bellezza delle sue nuove grafiche generalmente vi è piaciuta e ne sono felice ma oggi la portiamo a spasso per la prima volta in un motovlog ricco di sorprese dato che oltre a farvi uscire per la prima volta con la nuova Camilla vi parlerò anche di quello che ho saputo oggi e è una bella notizia è veramente molto bella sono molto felice però mettiamo in moto ve la racconta lo stavamo facendo adesso stiamo andando ad incontrarci con Antonio e ci prepariamo ad un interessante viaggetto in quel di Cassano foresta di mercadante che tra l'altro è stato il luogo in cui ho registrato il video di presentazione originale dell mt 09 sp e magari grazie all'aiuto di Antonio sarebbe anche l'occasione per fare qualche nuovo scatto alla mt 09 sp 2.0 da pubblicare poi sul profilo instagram su cui dovete obbligatoriamente seguirmi anche perché per quello che andrò a fare nelle prossime settimane instagram fidatevi sarà molto molto importante quindi mi raccomando seguitemi su instagram andrea cervoneraider buongiorno e allora davanti quello a me piace un sacco questo è un bmw praticamente un bmw sai che cosa mi piace di più il simbolo adesso io questo non l'avrei neanche messo tu pensa no no di dona sai che cosa mi piace assai pure questa canta eh vabbè è una nera quella vero si si mi prendo la reaction dell'officina questo è quello bravo nooo è un giro nooo eh nooo spetta fuori c'è quello che io non volevo mettere l'ho detto anch'io il cupolino è bello stai secondo me il cupolino fa proprio la differenza vabbè mi piace un po' più meno devo far vedere che questa è anche e soprattutto merito vostro certamente e quindi e devi apprezzare anche cosa tu io l'ho apprezzato mo domani esce il video la gente ancora non l'ha visto domani esce bello con tutte le riprese mi piace però l'unica cosa che non c'è a sé ecco vedi allora vuole essere pubblicato allora dopo questo ti pubblico eh non c'è che non c'è azzecca il nome vabbè ciao ciao uscita per Cassano delle Murge adesso passeremo vicinissimi non solo al San Nicola lì che come al solito lo stadio del Bari continua a perdere pezzi è letteralmente una situazione vergognosa mentre qui davanti un poco più avanti ci sarà l'uscita per Binetto dove è situato anche l'autodromo del Levante e dove non è la notizia che volevo darvi oggi ma ben presto insomma non ve lo dico godetevi questo piccolo spoiler per quello che è non posso mica dirvi già tutto scusate eh ora dovremo insozzare già la povera piccola Camilla con tutti gli insetti pacarozzosi che le si schianteranno addosso poveretta mi dispiace oggi è proprio una di quelle giornate cillose in cui ti viene voglia di andare in moto giusto per rilassarti non tiri le marce perché sai che anche la moto vuole rilassarsi poi la reale Camilla dopo l'incoronazione insomma non ha più questi stimoli perversi ma non può mentire alla sua natura le torneranno ed ecco la parte più bella di questo percorso che ci porta alla foresta di Mercadante con queste curve dall'aspetto montano ma che in realtà ci illudono solamente perché sono davvero due curvette in croce e poi si sale alla foresta e si viene accolti subito dai simpatici animali dai che se anche si ce lo concediamo un po' di divertimento sempre in relax non fa male a nessuno e vi devo ancora dire qual è la novità del giorno ok allora facendo un po' di gymkana qui tra le fosse la novità del giorno è che sono stato invitato al mio primo press tour da insomma un'azienda che fa moto quindi insomma la conoscete non vi voglio ancora anticipare nulla ma se cercate anche non troppo bene dovreste riuscire a capire di cosa si tratta sarà l'occasione per portarvi un contenuto assolutamente imperdibile a cui terrò tantissimo ecco non fatemi dire altro guarda oh ma ciao andiamo a dare un'occhiata va qua la visita agli animali obbligatoria che davvero davvero si ora ascoltiamo una persona che tanto probabilmente il video non lo vedrà ciao federico ciao ciao ciuchino cervi sul canale del cervo comunque dovrebbero essere cerve anzi no no direi decisamente cervo decisamente una pausa animali dopo questa foresta ha un problema solo viene abbastanza trascurata è una sostanzialmente delle due grandi foreste che abbiamo in Puglia questa è la più piccola delle due la più grande è la foresta umbra ma qui rispetto alla foresta umbra gli alberi sono sempre messi malissimo vedete molti sono secchi andrebbero tagliati andrebbero tolti per dare spazio anche a quelli che invece restano in salute però per quanto si veda effettivamente dell'attività da parte di chi gestisce la zona poi alla fine per quanto resti comunque bello come panorama viene un po' inficiato proprio da questa leggera incuria se può fare di meglio dai diciamocela tutte tra l'altro se non ricordo male quello che vi sto per dire sicuramente questa non è una foresta di origine naturale quindi è stata in un certo senso creata dall'uomo ma ed è qui che vi dicevo che non so se ricordo bene mi pare di aver letto che addirittura la sua creazione risale al periodo fascista che profumino che emani Antonio comunque ragazzi come vi dicevo nella prima parte di marzo ci saranno novità molto importanti vi porterò un contenuto particolarmente esclusivo quindi se non lo avete ancora fatto e so tra l'altro che molti di voi non l'hanno fatto perché youtube me lo dice quindi non vi potete nascondere iscrivetevi al canale perché così quando uscirà questo contenuto imperdibile come ne avete visti sinceramente anche altri in queste ultime settimane non ve lo perdete come hai detto? non ho capito ah adesso è più chiaro comunque questo video si è tramutato alla fine in uno degli episodi di Perle di Puglia perché vi ho portato comunque in una zona della Puglia che secondo me merita assolutamente di essere visitata guardate qua che panorama fantastico a parte quelle torri che come sapete vi dico sempre si mi inquietano e quella lì in particolare è quella che ha scatenato questa mia fobia di torri dato che mi ci ritrovai una sera sotto e me ne accorsi così all'improvviso mi girai e vidi quel torrione metallico un'angoscia tremenda uh è questo ora? ehi qua abbiamo anche i fossi craterici meglio passare di qua ora faccio una cagata la stavo per fare grossa siamo passati nel fango letteralmente uh 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 super fossi ah facciamo attenzione va che mi fa di fare la cagata okien oh mi avete diventato un tedesco incazzaten salve eh qua anche un po' forse la neve che ha fatto in questi giorni non ha semplificato le cose anzi probabilmente se mi seguite su instagram avete visto queste zone innevate in una storia recente dobbiamo stare attenti qua mamma mia non mi ricordavo che fosse questa la situazione non lo era a giugno 2020 quantomeno due opzioni di là arriviamo ad Altamura e questa strada non è male di là torniamo a Cassano e andiamo al convento forse tra le due io direi di qua direi di sì mamma mia guardate qua l'immensità che fantasia mucche a volontà ciao beh che ne dite dello scarico so che non ho fatto una scelta particolarmente originale ma al tempo stesso sapevo di andare sul sicuro e poi il quickshifter è tutta un'altra cosa aggiunge quel tocco orgasmico alla cambiata che mancava va bene ragazzi direi che il nostro video può finire qui io vi ringrazio per averlo guardato tutto come al solito le raccomandazioni dalle mura megalitiche qui alla mia sinistra di Altamura sono sempre le stesse cioè iscrivetevi al canale lasciate like se non l'avete ancora fatto perché è un crimine punito dalla legge di youtube con la pena al carcere fino a 12.000 anni iscrivetevi anche perché insomma è importante ve l'ho detto ci sono dei contenuti esclusivi in arrivo e poi iscrivetevi anche al profilo instagram che è gratuito non costa un euro e vi permetterà di restare in contatto con me durante questa esperienza e in generale durante tutte le mie giornate però le raccomandazioni sono fin troppe quindi direi che noi ci rivediamo sabato prossimo con un nuovo motovlog ciao saluta 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 saluta